Nella Salernitana delude Weissman, voto 5,5, 5 tocchi sono pochi, un duello vinto, uno perso, dura 50 minuti la sua partita ed è tutta qua in questi numeri molto molto scarni. È vero che non viene aiutato dai compagni, però ogni tanto ci mette anche nel suo, nell'isolarsi e nel perdere proprio tutto quello che c'è da perdere nei duelli e nei contrasti contro la difesa leccese. 5,5.